Ciao, mi chiamo Robert Garzia, così si parla italiano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Arrivederci, arrivederci. Parla inglese, parla inglese, parla inglese. Come si chiama, come si chiama, come si chiama. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Excuse, dove è il bagno? Excuse, dove è il bagno? Excuse, dove è il bagno? Fuori campo Fuori campo Fuori campo Portami fuori per il gioco della palla Portami fuori per il gioco della palla Portami fuori per il gioco della palla serie mondiale serie mondiale serie mondiale andiamo kubbs andiamo kubbs arrivederci la sce hit the subscribe button over did you like the video make sure you check out more Hey Cubs fans, make sure you subscribe to our channel.